Buonasera mister, subito una domanda per lei da Danilo Perri, Gazzetta del Sud. Mister buonasera, al di là sicuramente delle attrenuanti rispetto alla situazione che si è scaturita nell'ultimo mese, di sicuro però l'atteggiamento della squadra è quello sbagliato, perché prendere gol in quel modo dopo appena sei minuti una squadra che deve dottare per salvarsi è sicuramente il peggior inizio, tre tocchi in aria, qualcosa di spiegabile. Sì, il discorso sull'approccio è proprio quello, il discorso centrale, quello che è mancato alla squadra, l'approccio iniziale perché è giusto mettere da parte per questo discorso le attenuanti, perché l'approccio comunque indipendentemente dal, ci poteva stare la non durata, ma l'approccio deve essere giusto, comunque, nonostante avevi due giorni di allenamento dopo quasi un mese per alcuni, però l'approccio doveva essere quello giusto ed è lì il punto centrale, e oltre ad alcune ingenuità che comunque alcuni calciatori non devono fare. Walter Leone, Gazzetta del Sport, Ipo Cosenza. A parte l'approccio io aggiungo che non c'è stata una reazione perché capisco che evidentemente le difficoltà del momento hanno condizionato dal punto di vista fisico e di conseguenza mentale, lo sappiamo se non ci sei con il fisico, però ho visto alcuni calciatori molto in difficoltà, ti volevo chiedere, per esempio, Bittante, dall'inizio era in difficoltà su Bidawi, come si chiama lui, dell'Ascoli, probabilmente forse ho visto che quello là secondo giallo è stato come un fallo di frustrazione, e poi ti volevo chiedere in mezzo al campo, anche oggi ho visto che la convivenza tra Palmiero e Carraro, per quello che servirà da qui in poi, è sempre più complicata. Guarda, queste sono tutte valutazioni che insomma si fanno, insomma, guardando, per guardare il futuro, però oltre a questo oggi c'era davvero, l'avevamo detto, da tener conto da tante incognite, perché allenarsi due giorni non è semplice, dopo un mese. Se parli di 5-6 giocatori col Covid, ma se parli di 18 giocatori con il Covid, vuol dire che hai una squadra con il Covid. E quindi non è una scusante, ripeto, perché l'approccio, la reazione, sono d'accordo, infatti aspettavo la fine del primo tempo per cercare quella reazione anche dentro lo spogliatoio, e poi alla fine c'è stata, perché paradossalmente l'espulsione ingenua ti ha dato quel qualcosa in più per poter riprendere la gara. E quindi, e sei stato anche lì a cercare di battere colpo su colpo, anche in inferiorità numerica. E quello, diciamo, che è la parte, se possiamo dire, che mi è piaciuta un po' di più. Però, ripeto, poi non puoi fare alcuna ingenuità. Quello che hai detto è giusto quando hai poco nelle gambe, poco nel fisico, magari perdi la lucidità, però, in alcuni giocatori, insomma, deve venire fuori l'esperienza. Ed è quello che ha bisogno questa squadra. Ha bisogno di esperienza, ha bisogno di impatto in campo, perché queste gare si vincono in questo modo, insomma. Palmiero-Carraro. Palmiero-Carraro, bravo, giusto. Palmiero-Carraro, comunque, Carraro oggi faceva mezzala, aveva i situm e faceva mezzala all'altro lato, poi fatta entrare Vallocchia. E quindi, diciamo, che gli unici due centrocampisti, che comunque in questo periodo si erano alleati un po' di più. E quindi devi andare avanti, ti dà fisicità, comunque Carraro. Inizialmente non avevano le distanze, dopo hanno trovato le distanze, tutte e due. E quindi, diciamo, che si deve lavorare. Si deve lavorare, quello che dicevamo in conferenza stampa. Aspettavamo la sosta per poter lavorare. Tutto si è potuto fare, tranne che lavorare. Siamo stati fermi e quindi devi, insomma, dovi fare di necessità virtù, insomma. Ancora Danilo Perri. Allora, mister, dopo 19 giornate il Cosenza ha totalizzato 16 punti. Addirittura un punto in meno rispetto alla scorsa stagione. Continuando di questo passo, almeno da quello che riflette dal campo, questa squadra non è in grado di raggiungere la salvezza. Ha bisogno, come ha detto lei, anche ieri, di esperienza e di qualità. Quindi sicuramente deve passare attraverso il mercato la salvezza del Cosenza. Ora le voglio chiedere, lo chiedo a lei perché con il Presidente è impossibile parlare da ormai quasi un anno. Che cosa le dice il Presidente al riguardo? Perché lei ha bisogno di cinque uomini, ma cinque uomini comunque appunto di esperienza e qualità. Il Presidente è consapevole di questo? Sì, quello che già in passato è stato detto, anche quando io non ero qua, che c'è la volontà e la voglia di voler fare tutto quello che ha bisogno, insomma, l'area tecnica da parte sua. Quindi spero e sono sicuro che sarà la settimana decisiva per poter intervenire in modo deciso, in modo concreto, in modo forte, per portare elementi a questi ragazzi che già, ripeto, ci sono e hanno dimostrato, quando sono stati in condizione di poterlo fare, hanno comunque dimostrato il loro valore. Però è giusto che non basta, è palese che non basta tutto questo. Quindi basta altro e questo periodo di mercato serve a poter intervenire in modo giusto. Mi riallaccio un po' alla domanda di Danilo, perché è fin troppo evidente che manca esperienza e qualità a questa squadra, gente di categoria. C'è la cosa che potrebbe essere preoccupante e con quest'ennesimo risultato negativo, magari uno potrebbe anche pensarci undici volte prima di dire sì di venire a Cosenza. Vi preoccupa questo aspetto, almeno per quelli che erano gli obiettivi che avevate individuati, perché so che assieme a Goretti ci sono un gruppo di calciatori che avevate già individuato. A me, io ho fiducia nel lavoro che stiamo facendo, insomma, per quanto riguarda gli obiettivi, quindi quello è un lavoro fuori campo, quindi aspetto con voglia, con ansia e con comunque l'entusiasmo di poter iniziare e poter lavorare in un certo modo, perché una delle cose frustranti per un tecnico è non poter lavorare e quindi questo è stato davvero un periodo surreale, un periodo surreale dove anche con quelli che hai a disposizione è davvero, cioè si è potuto fare davvero poco, forse sapete come si sono svolte queste tre settimane, insomma. E quindi però è giusto che, insomma, si aspettano, insomma, aspettare che arrivano gli obiettivi che abbiamo in testa. Volevo chiederti giusto una curiosità. Che effetto ti ha fatto vedere Collocolo fare gol davanti alla tua panchina? So che tu lo hai avuto nel settore giovanile, lo avevi anche segnalato in prima squadra, ma evidentemente c'era troppo cerume nelle orecchie di qualcuno. Ma lui sta facendo il suo percorso, il suo percorso di crescita, quindi per la sua carriera non sono contento per oggi, per quello che ha fatto oggi assolutamente, però lui gli auguro sempre il meglio. Un ragazzo eccezionale, un ragazzo che sta dimostrando le qualità, insomma, che comunque aveva dentro e le doveva togliere fuori. Quindi ha un percorso importante, dovrà, insomma, a lui l'imbocca al lupo di tutti, insomma. Grazie a tutti. Grazie a voi, buonasera.